Il dirigente medico lascia per motivi non professionali e dalla gradatoria ottenuta dalla Asla Vezzano-Sumona-L'Aquila dopo l'avviso pubblico nessun medico sarà disponibile per prendere servizio. L'ennesimo allarme sulla sanità e sulla carenza di personale che riguarda questa volta il reparto di pediatria dell'ospedale di Sulmona viene lanciato da Gianna Tollis, responsabile CISL Medici del territorio Peligno, che chiede all'azienda sanitaria di indire un concorso per dirigenti medici pediatri a tempo indeterminato. Solo in questo modo, secondo Tollis, la pediatria di Sulmona potrebbe trovare un equilibrio duraturo nel tempo. Ricordiamo che l'unità di pediatria di Sulmona comprende anche il punto nascita, interviene la sindacalista. La nostra attenzione non è mai venuta a meno, per cui auspichiamo che questo nuovo momento di criticità venga risolto a più presto e che non sia foriero di nuove disavventure già vista in passato riguardanti il punto nascita, che invece negli ultimi due anni ha trovato nuovo vigore, riguadagnando la fiducia delle mamme Peligne. Sulla pediatria di Sulmona, ricorda la sindacalista, insiste anche il centro di riferimento per la malattia celiaca Fiorello Occhiello, insieme con il centro degli adulti dell'ospedale Peligno, offrendo un servizio eccellente a circa 200 piccoli pazienti, la maggior parte dei quali provenienti da altre ASL. Infine non dimentichiamo che la popolazione di cui si sta trattando è quella pediatrica, la più fragile ma anche la più preziosa della società. Chiediamo con forza che si torni a guardare alla salute pubblica in tutti i suoi aspetti, non solo e non meramente dal punto di vista ragioneristico, ma soprattutto mettendo di nuovo al centro dei nostri interessi l'essere umano in quanto tale.